Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Onkai Star Rail perché oggi parliamo di Bronia. Bronia, un personaggio che a dire la verità non ho utilizzato tantissimo all'inizio della mia esperienza anche perché l'ho trovata praticamente dopo, dopo un po' di gioco. È stato il mio primo personaggio che ho ottenuto dal banner permanente quindi non l'ho ottenuta subito ma dal momento in cui ho ottenuto Jin Yang è diventata praticamente un membro fisso del mio party insieme allo stesso Jin Yang e poi Jepard. Oggi parliamo di questo personaggio perché è un personaggio che ovviamente buffa l'intero party è uno dei pochi buffer presenti per il momento all'interno del gioco ed essendo anche di elemento vento è molto molto particolare e comoda sotto alcuni punti di vista da avere all'interno del party. Partiamo subito con l'analizzare le varie armi. Le varie armi che consiglio per Bronia sono senza ombra di dubbio la sua arma ovvero The Battle Isn't Over è arma 5 stelle che ovviamente possono equipaggiare tutti i personaggi del patto Harmony dove praticamente incrementiamo l'energy regeneration rate del 10, 12, 14, 16 o 18% e rigeneriamo un skill point ogni qualvolta utilizziamo la nostra ultimate. Quindi potete capire che praticamente è già tanta bella robetta anche perché appunto Bronia essendo un personaggio che sfrutterà tanti skill point grazie al suo kit recuperarli con la ultimate diciamo che è effettivamente un ottimo compromesso. Successivamente questo effetto può essere attivato ogni due volte che si utilizza l'ultimate quindi non sarà ovviamente sempre e successivamente quando l'utilizzatore usa la propria skill e il prossimo alleato prende praticamente il turno prende l'azione effettuerà il 30, 35, 40, 45, 50% di danno in più per un turno. E questa è una cosa molto molto interessante perché si va ad unire successivamente anche con una delle skill che presenta praticamente Bronio ovvero la sua skill di battaglia che ci consente di prendere il personaggio e portarlo subito praticamente dopo di noi e aumentare il danno. Quindi aumentare il danno grazie anche alla carta è un effetto che stacca e quindi potete immaginare già quanto effettivamente possa essere forte Bronia con la sua arma. Successivamente abbiamo una soluzione 4 stelle che si chiama Past and Future che copia qualche effetto anzi copia praticamente un effetto praticamente dell'arma 5 stelle di Bronia ovvero che l'utilizzatore quando utilizza la propria skill e il prossimo alleato prende l'azione effettuerà danno incrementato del 16, 20, 24, 28 o 32% per un turno. Quindi diciamo che questa è probabilmente una delle light con migliori 4 stelle che si possono ottenere per Bronia anche perché è una light con che si ottiene free to play dato che possiamo ottenerla praticamente con i frammenti del Forgotten Hall quindi completando man mano gli stage avremo i frammenti per ottenere questa carta e ovviamente potremo ottenerla anche dai boss settimanali se abbiamo un pizzichino di fortuna in più. e poi successivamente terza opzione Memories of the Past che se non ricordo male è l'arma del Battle Pass ma non ci faccio caso, non linciatemi perché non le ricordo ancora tutte a memoria le armi dove praticamente abbiamo l'incremento del break effect dell'utilizzatore di questa light con una del 28, 35, 42, 49 o 56% e quando l'utilizzatore attacca quindi un nostro avversario abbiamo la possibilità di rigenerare 4, 5, 6, 7 oppure 8 punti energia questo effetto può essere attivato una sola volta per ogni turno quindi avere la possibilità di attaccare e successivamente incrementare l'energia è comunque comodissimo per quanto riguarda il kit di Bronia proprio perché Bronia tramite il suo kit non fa altro che potenziare praticamente tutti gli alleati del party per quanto riguarda i relics o per meglio dire gli artefatti in questo caso ci sono due possibili opzioni che si possono utilizzare su Bronia che secondo me si equivalgono quasi la cosa importante è ovviamente avere 4 pezzi dello stesso set sia di uno che dell'altro perché gli effetti del 2 pezzi sinceramente possono essere carini ma quello che conta davvero in questo caso sono gli effetti del 4 pezzi in questo caso abbiamo il primo set che è quello del Mascheteer of Wild Wheat dove abbiamo praticamente 2 pezzi con attacco incrementato del 10% e il 4 pezzi che incrementa la velocità dell'utilizzatore del kit del 6% e anche l'attacco base del 10% perché è buono questo set perché Bronia ovviamente al di fuori delle sue skill non fa danni quindi l'unico modo con cui possiamo fare danno con Bronia è utilizzare il suo attacco base attacco base che verrà utilizzato poco in realtà Bronia è uno di quei personaggi che attacca poco e fa attaccare tanto gli altri e fa fare tanto danno agli altri far attaccare Bronia con l'attacco normale è un evento più unico che è raro però soprattutto all'inizio del gioco e nelle prime fasi di gioco probabilmente questo set è quello migliore per poter accompagnare il personaggio perché comunque ci ritroveremo in un modo o nell'altro ad attaccare normalmente e quindi con questo riusciamo a fare anche un po' più di danno senza considerare il fatto che uno dei tratti che poi sbloccheremo del personaggio di Bronia ci consente di ottenere crit rate del 100% con i suoi attacchi di base quindi avremo comunque modo di fare dei buoni danni anche utilizzando appunto l'attacco normale secondo set che invece è un po' più particolare e un po' più specifico probabilmente per il personaggio di Bronia ovvero l'Eagle of Twilight Line dove abbiamo i due pezzi che incrementano i danni vento del 10% dato che lei appunto è di elemento vento e i quattro pezzi che invece una volta utilizzata l'Ultimate l'utilizzatore di questo kit avanza la propria azione del 25% quindi ci consente comunque di andare più veloci e quindi recuperare turni o recuperare praticamente posizioni per permettere ad altri personaggi di fare del danno quindi è molto comodo questo set su Bronia perché la ulti ci consente di buffarci di potenziarci e inoltre ci sposta in avanti quindi possiamo continuare a fare ovviamente il nostro gioco mentre invece per quanto riguarda il planar set assolutamente Fleets of the Ageless dove praticamente abbiamo l'incremento dei massimi HP dell'utilizzatore del 12% e se la nostra speed raggiunge i 120 abbiamo un attacco incrementato per tutti gli alleati dell'8% questo ovviamente è un ottimo set per lei perché lei comunque aumenta scala abbastanza bene su HP anche se lei non ha skill che scalano su HP ma i suoi HP di base sono molto alti non ha una grandissima difesa quindi cercare comunque di aumentare gli HP non è affatto male ma qui ovviamente il bonus migliore è senza ombra di dubbio il fatto di incrementare l'attacco a tutti grazie alla sua velocità velocità che rende Bronia importantissima all'interno del party successivamente per quanto riguarda le main stats da cercare ovviamente per quanto riguarda questi equipaggiamenti a parte la testa e le mani che avranno comunque HP attacco sempre a prescindere abbiamo il body dove dobbiamo assolutamente cercare crit damage Bronia non vuole altro perché come vi ho detto prima il crit rate lo avremo al 100% tramite l'attacco normale quindi non ci serve aumentare crit rate dobbiamo assolutamente aumentare il crit damage i piedi necessitano speed perché dobbiamo far andare Bronia il più veloce possibile per recuperare turni e far attaccare altri alleati per appunto buffarli e successivamente potenziare tutto il party tramite la ulti la planar la planar sphere che in questo caso va bene wind damage proprio perché diamo la possibilità a Bronia di incrementare un po' i danni visto che non cerchiamo attacco e non cerchiamo crit rate abbiamo comunque il crit damage dalla nostra parte ma incrementare i danni event insieme al set potrebbe essere una buona idea e poi link rope ovviamente energy regenerate perché dobbiamo incrementare la possibilità di sfruttare la ulti cercare di far andare il personaggio di Bronia sempre più veloce e potenziare sempre di più i nostri membri del party per quanto riguarda invece le substats che si vanno a cercare sul personaggio siamo sempre lì abbiamo praticamente le stesse cose quindi crit damage assolutamente come priorità speed break effect e attacco in percentuale l'attacco in percentuale in questo caso lo metto alla fine perché tramite break effect tramite crit damage e crit rate riusciamo a fare molti più danni avere l'attacco in percentuale aumentato ci può aiutare Nii perché comunque ripeto il personaggio di Bronia sarà un personaggio che attaccherà pochissimo all'interno del party o almeno in teoria dovrebbe attaccare pochissimo all'interno del party e dovrebbe permettere agli altri personaggi di attaccare e non attaccare lei in prima persona quindi le uniche cose che effettivamente ci interessano sono la velocità il break effect e il crit damage l'attacco rimane l'ultima spiaggia però va bene così per quanto riguarda invece le skill la priorità per quanto riguarda le skill per aumentare le varie skill sono senza ombra di dubbio in prima posizione l'ultimate perché tramite l'ultimate abbiamo la skill quindi l'attacco bello bog march che praticamente incrementa l'attacco di tutti gli alleati del 33% e inoltre incrementa il crit damage uguale al 12% rispetto a quello di Bronia più un ulteriore 12% queste sono ovviamente tutte le statistiche di base quindi livello 1 man mano andranno ad aumentare e diventeranno sempre più forti però come potete notare il crit damage è spiegato qui a crescere e aumentare il crit damage di Bronia serve solo ed esclusivamente per la sua ultimate permettere ai personaggi di fare più danno permettere ai personaggi di essere forti dal punto di vista offensivo tramite la sua ultimate successivamente abbiamo la sua skill quindi l'abilità che possiamo utilizzare in battaglia ovvero combat redeployment dove praticamente abbiamo la capacità di dispellare un debuff da un single target che successivamente prenderà immediatamente l'azione quindi passerà praticamente subito dopo il turno di Bronia questo personaggio che viene portato subito in avanti avrà un ulteriore incremento del danno del 33% per un turno questo incremento del danno ovviamente stacca anche con quello dell'arma quindi se avete l'arma che aumenta i danni quando portate il personaggio davanti fatevi il calcolo e potete staccare entrambi gli effetti inoltre quando questa skill viene utilizzata su Bronia lei ovviamente non riprende subito l'azione quindi viene potenziata però il suo potenziamento viene appunto rilasciato per il prossimo turno in cui effettuerà la turnazione Bronia quindi è praticamente inutile quasi utilizzare questa skill su di lei infine andiamo con il talento perché il talento ci permette di incrementare la nostra velocità e portare il personaggio di Bronia più avanti quindi nelle sue azioni quindi a far avanzare l'azione di Bronia del 15% quindi quelle rarissime volte in cui utilizzeremo l'attacco normale possiamo sperare in un qualche modo di avanzare velocemente e quindi riguadagnare il turno e applicare appunto tramite la nostra skill il buff per far fare danni in più ai nostri alleati e quindi ricominciare la turnazione legittima di Bronia quindi serve solo ed esclusivamente a questo ovviamente lo metto in terza posizione perché come vi ho detto prima l'attacco base di Bronia in teoria deve essere utilizzato il meno possibile quindi non necessita Bronia di attaccare ma deve far attaccare gli altri e quindi questo è quello che dobbiamo dire e discutere per quanto riguarda Bronia questo è il mio pensiero e la mia build per quanto riguarda Bronia spero che il video possa esservi stato utile fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente del personaggio e se l'avete e come l'avete buildato io vi aspetto con il prossimo appuntamento qui sul canale YouTube oppure ogni sera a partire dalle 21 sul mio canale Twitch bye bye